Dopo Vallefoglie e Petriano dal 12 al 18 febbraio sarà il turno di Apecchio che vivrà una settimana da capitale della cultura grazie al progetto 50 per 50 capitali al quadrato. Tante le iniziative proposte dal comune con un evento diverso per ogni giorno e adatti a tutte le età. È un programma ricco perché è improntato un po' alla espressività corale, al fatto di poter coinvolgere un po' tutti quelli che sono stati i temi di questi anni, le collaborazioni, le varie iniziative che sono state messe in campo negli ultimi tempi che tra l'altro hanno visto anche consolidarsi nel tempo la collaborazione con il comune di Pesaro attraverso le mostre culturali, attraverso le relazioni, le precedenti celebrazioni rossiniane e quindi tra l'altro rinnovo ovviamente il ringraziamento verso il comune di Pesaro non solo per questa ottima intuizione di coinvolgere tutti i comuni ma anche perché da sempre c'è stata questa ricerca della complementarità nel nostro piccolo anche noi abbiamo potuto offrire le nostre risorse, le nostre bellezze, le nostre particolarità, le nostre eccellenze e la soddisfazione è duplice perché questo appuntamento cade immediatamente a ridosso con il riconoscimento che abbiamo appena ricevuto dal Touring Club italiano con l'assegnazione della bandera arancione diciamo che quindi questo programma ripropone, riflette, potenzia, rilancia i temi che sono stati anche alla base dell'ottenimento di questo titolo che riteniamo essere anche meritato per la particolarità e per l'eccezionalità sotto certi aspetti del nostro territorio. Tantissimi eventi che ci vedono protagonisti dal 12 al 18 febbraio, la rassegna culturale prende il nome di AMA con la doppia iniziale per richiamare gli asili degli appennini di cui come comune della strategia nazionale delle rinterne facciamo parte e si parte il lunedì con la presentazione di una raccolta poetica con la annunciazione della bandiera arancione, un inedito di una poesia di Volponi dedicata al nostro comune a Pecchio per poi passare alla presentazione di un romanzo, a laboratori teatrali, a uno spettacolo teatrale musicale il venerdì tutto al femminile con due musiciste e una voce narrante, un po' di divertimento per i giovani il venerdì sera e il sabato con la nostra tradizione del carnevale che è il carnevale morto che è organizzato da giovani del nostro territorio quindi la parte giovanile non manca per poi passare invece alla storia, agli amici della storia con due appuntamenti, uno il sabato uno la domenica, due mostre a Palazzo Baldini e poi ovviamente la natura che fa parte del nostro territorio con un trekking la domenica mattina e una visita guidata al centro storico la domenica pomeriggio per concludere sempre con gli amici della storia. queste settimane del 50 per 50 sta diventando non solo un valore aggiunto ma una vera e propria parte integrante, un grande rafforzativo di quello che è lo spirito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Dopo Valle Foglia e dopo Petriano ora a Pecchio che è uno dei comuni con cui abbiamo da sempre stretto rapporti di collaborazione, di programmazione reciproca condivisa sul turismo, sulla cultura, sull'edogastronomia, presenta ora una settimana davvero ricca da lunedì a domenica quindi sette giorni pieni in cui tanti degli elementi che ci hanno collegato in questi anni li ritroviamo nel migliore di modi.